Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi finalmente siamo qui con una nuova opening in anteprima. A questo giro abbiamo il nuovo set TGC Valiant Smasher, il nuovo set in uscita il 16 novembre in tutte le fumeterie visto che le edicole non vendono più roba di Yugi sfortunatamente. Detto questo però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Jaxor, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre invece se volete il prodotto sigillato o carte singole trovate Card Game Corner sempre qua sotto, insieme ovviamente anche il mio codice sconto. Mentre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo andiamo a parlare del prodotto e ovviamente a sbustarlo. Oh finalmente riusciamo ad aprirci questo prodotto che nel complesso è molto interessante sia a livello di ristampe sia a livello di mazzi che potremo andare a trovare. Soprattutto perché uno di questi sarà veramente forte nel competitivo e probabilmente sarà quello che mi monterò io nel prossimo formato. Non ne vado matto a livello di artwork ma la meccanica è veramente figa ma ovviamente ne andremo a parlare quando uscirà. Prima ovviamente ad iniziare vorrei farvi vedere un attimo quali sono le ristampe più interessanti che possiamo trovare all'interno di questo pacco e ovviamente quali sono le carte che troveremo qua dentro. Ovviamente le reprinte più interessanti sono Derk and Be Only One sfortunatamente è stato già inserito all'interno di un set con le Collector. Wism e quindi non capisco la necessità di metterla anche qua dentro. Poi abbiamo Baguska che assolutamente niente male. Monarch Evocatore fioriera magica che si può giocare in un formato post Edison. Terraformare che anche questa aveva avuto una ristampa ultimamente in Battle of Legend quindi anche questa è un po' secondaria. Poi abbiamo Crollo Gravitazionale questa ottima perché se non ricordo male Common e Rara stava sui 2 euro più o meno. Poi abbiamo Drago Berserk del Teni anche questa carina ma era già stata ristampata quindi ok ma ci sta. E come ultimi due abbiamo Sorella Fantasma Cornello Spettrale che ok ci sta come non ci sta e il Cyber Colpo Lady Arpia. Questa carta è un Synchro Arpia che usciva in Dragon of Legend The Complete Series. Praticamente il set col dado, la carta secret e i pacchetti con le carte con la scritta colorata. Questo cosa implicava? Che ovviamente di carte ne uscivano poche. Il set è stato sbussato poco e questa qui in versione inglese costa tipo 12 euro in italiano infinito. Siamo su queste cifre indicativamente. Mentre per quanto riguarda i tre mazzi che potete vedere abbiamo Memento che sono queste qua. Poi abbiamo i Centurion e i Valmodica. In più da come ci dice qua c'è anche una carta Goblin. Non l'ho vista, non mi interessa. Ok che usciranno i nuovi supporti ma abbastanza sti cazzi. Detto questo io adesso procederei con l'opening perché ovviamente il mio obiettivo è trovare le carte Centurion in modo tale da poter montare il mazzo e effettivamente testarlo prima dell'uscita da noi a novembre perché molto probabilmente porterò questo ADCS. Allora partiamo con una carta Valmonica. Ovviamente ragazzi questo mazzo l'ho guardato poco perché mi interessa effettivamente poco in quanto mazzo pendolo. Poi abbiamo Spirito Protettore, Crollo Gravitazionale, La Terreno Centurion che ragazzi questo mazzo è bellissimo. Cioè è proprio bella la meccanica perché i mostri vengono considerate carte trappola continue e poi da lì li posso evocare e ci sono trick particolari che ovviamente non starò qua a spiegare perché effettivamente il mazzo non l'ho testato. Ho visto solo un po' come funziona e ho letto gli effetti alle carte. Comunque gli do molta fiducia e spero che Konami considerando i vecchi set con le Collector gli dia il supporto giusto per renderlo ancora più forte. Poi come ultima abbiamo una carta che si giocava in un retroformat, non ricordo qua, con una foilatura tipo la Shutter Foil più o meno. Allora andiamo con il secondo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Abbiamo carta Memento, sì, c'è pure il mostro che è praticamente uguale. Questo mazzo funziona praticamente tutto da cimitero quindi shifter e il mazzo esplode, peccato. Cioè è carina la meccanica perché manda altri Memento al cimitero, poi se ne hai quattro si può evocare il Boss Monsters se ce n'hai tre con nomi diversi invece ce n'è un altro. Cioè l'altro che si può evocare è questo. Quindi boh carino però non gli do troppa fiducia. Adesso vediamo anche se usciranno supporti ma c'è un mazzo che effettivamente esplode da shifter se non ti chiami Tier Lamens ci fai poco. Allora poi abbiamo Terraformaria, un'altra carta Memento che questa insieme a un'altra che vedremo dopo che è sempre un livello 1 fanno da HT, non sono male, che hanno anche un altro effetto sul terreno che spaccano un Memento e partono gli effetti. Vabbè ma più o meno la meccanica Memento funziona con Memento da Decca cimitero e poi ovviamente questa roba dello spaccare. Poi abbiamo una carta Centurion la magia rapida. Vediamo. Oh che culo abbiamo trovato il sercino del mazzo fondamentalmente. Tocca forse arrivato agli artwork perché c'è una waifu? Chi è quella da sopra? Boh probabilmente ci sarà una lore incredibile. Tanto vedendo un po' gli artwork bisogna aspettarsi qualcosa di più. Allora andiamo con il prossimo. Abbiamo un altro Valmonica. Sì. Che io so che a tanta gente è piaciuto come mazzo. Cioè a livello di artwork. Poi appena hanno scoperto che erano carte Pendulum hanno detto ah e vabbè passiamo oltre. Questa se non erro dovrebbe essere la terreno Valmonica più o meno. Sì. O abbiamo trovato il Boss Busters chiamiamolo così perché è di livello alto e attacco alto. E questo rientra sempre fondamentalmente da si evoca da mano cimitero. E per concludere abbiamo trovato la magia Valmonica. Pure bellino io non capisco. Adesso guardando un po' gli artwork perché lo hanno fatto così? Cioè a parte la versione Pendulum. Ma è uno stile proprio strano. Cioè non riesco a capire se mi piace o meno fondamentalmente. Allora andiamo con il prossimo. Oh abbiamo trovato Dark and B. Carina. E da noi ovviamente queste carte saranno come i pacchetti con le collector. Quindi se non sbaglio dovrebbero essere tutte rare. E poi c'è la foil. Poi abbiamo ok il corneolo spettrale. Questa dovrebbe essere. Vabbè l'abbiamo saltata ma è la trappola Valmonica. Poi abbiamo ok l'altro Valmonica e Drago Berserk del Teniche. Boh ci sta a conquistare la Shutterfoil. Da noi è tipo una vita che non la usano più. L'avevano messa nei battle pack e poi l'hanno abbandonata. Peccato. Poteva essere un'idea carina. Tipo metterla tipo mono a pack in set del genere. Però va bene. Oh finalmente sono tornati in memento. Questa se non ricordo male ha due effetti. Una mi fa tirare il boss monsters del mazzo. Ignorando le condizioni di vocazione se un memento lascia il terreno. In più se è nel cimitero e l'avversario mi sposta un memento posso bannare questa carta ed evocare tanti memento dal mazzo quanti possibile. No ho sbagliato perché evoca sia da mazzo che da mano. Poi abbiamo ok monaco evocatore. Bagusca ovviamente non censurato con la bottiglia di vino e secondo me è un plus. Spero la portano da noi anche nella versione l'art. Abbiamo poi la Lady Arpia. La Cyber Lady Arpia. Come si chiama? Colpo Cyber Lady Arpia. Bene. Che ovviamente costava tanto. E il Valmonica e Shatterfoil. Andiamo con il prossimo. Comunque in Giappone questi set sono molto più piccoli rispetto a noi. Hanno penso la metà dei pack. Non so se arriva a 12. Se non ero non l'ho pagata neanche tanto. Abbiamo poi Fioriera Magica. Monaco evocatore. Carta, carta. Un'altra carta Valmonica. E abbiamo la Terreno Centurion. Che anche questo è un bel palo in culo perché non può essere distrutta se ho un Centurion sul terreno. In più mi fa posizionare una carta Centurion. E se evoco specialmente un Centurion. Nel pratico posso sincrare nel momento successivo che ho fatto l'evocazione. Ovviamente per sincro Centurion. Ah ragazzi ovviamente io mi sto studiando i tre mazzi in questo periodo. Proprio perché mi voglio preparare l'ICS. Quindi se ho detto qualche cavolata su qualche effetto fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Allora ok abbiamo trovato l'altra HT dei Memento. E per concludere abbiamo il Boss Monsters Memento. Questa questione si evoca sciaffolando 5 carte da cimitero o mano nel deck e nell'extra deck. Inoltre se controllo solo lui come mostro posso attaccare tutti i mostri dell'avversario. In più se l'avversario attiva l'effetto di un mostro o una carta posso evocare un Memento da cimitero o mano se non ricordo male. Quindi indicativamente la carta dell'OTK. Andiamo avanti. Abbiamo Bestione Centurion, Crollo Gravitazionale, la Terreno che abbiamo già vista. Questa è la Counter Centurion. Nel pratico è l'unica trappola forte perché sono due e l'altra non mi piace tanto. Questa qui praticamente quando l'avversario attiva una carta magia o trappola mi fa Daneghino mandando un mostro controllato nella zona carta magia o trappola. Quindi nel pratico questa qui funziona anche per Bestia Cristallo fondamentalmente. E per concludere abbiamo l'altro Bestione che vi ho detto prima dei Memento. È un'impressione mia o assomiglia tantissimo a Drago Tricorno. Andiamo con il prossimo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Abbiamo una carta Performage che nel pratico ho capito che si gioca insieme ai Valmodica. Poi abbiamo la continua Memento, un altro Drago Berserk del Teni, l'altro Bestione dei... Abbiamo trovato entrambi i Bestioni dei Memento. Vabbè lui stica. Ma ragazzi quanto è bello. Quanto è bello no dai in versione Secret è tanta roba. Il problema è che da noi non uscirà mai così in quanto il set è formato da Tutte Ultra e Collector. È un po' una sfiga enorme perché è veramente figo. Mi dispiace per chi vuole montare il mazzo però ve lo succherete Ultra fondamentalmente. Proprio una bella carta. Andiamo con il prossimo e non so se ci siamo finiti pull perché credo che di Secret qua dentro ce ne sia una sola. Allora abbiamo l'altra carta dei Centurion, la trappola che non mi piace, poi abbiamo Bagusca, la Lady Arpia, questa che non mi interessa e Terraformare a Shutterfoil. Abbiamo altri cinque pack e vediamo. Sarebbe carino trovare qualche carta particolare ma non so effettivamente che rarità incredibili ci possano essere qua dentro. Allora abbiamo Monaco Evocatore, la trappola dei Memento, la magia che abbiamo visto prima, una delle HT e il Centurion grosso Shutterfoil. Andiamo avanti. Comunque ragazzi vi ricordo che se volete supportare questo canale vi basta solamente un mi piace, iscrivervi e ovviamente, a parte che abbiamo trovato la carta Memento, e ovviamente accendere la campanellina per non perdervi assolutamente nessuno dei video. Vi ringrazio perché per quest'anno sarebbe bello arrivare a 5k. Lo so che è difficile, ma insieme ce la possiamo fare. Questa è una carta molto interessante per Memento, sia perché entra Specials e controllo solo Memento sul terreno. Inoltre mi fa spaccare una carta Memento, che controllo, e mando al cimitero da mazzo tante carte Memento, con nomi differenti mi sembra, pari al livello del mostro mandato al cimitero. Quindi nel pratico, se spacco una carta di livello 3, 4, 5, iniziano ad essere tanti quelli che mando, eh? Soprattutto perché mi velocizza la possibilità di evocare poi il bitone. Andiamo adesso con il terzo ultimo, e vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro di gioioso. Abbiamo Drago Berserk, questa abbiamo già vista, questa non ci serve, ma l'hanno stampata al contrario? No, non ci credo che ho beccato una Missprint del genere, no, no, no. L'hanno disegnata così, ovviamente. Sì, sì. No, ragazzi, non è una Missprint. Ho appena controllato e effettivamente l'artwork è così. È una carta balmonica ed è fighissima. È geniale l'idea che esca dall'alto. Molto bella. Ve la giro almeno, potete vederla bene. È tanta roba, carina. Allora, andiamo con il penultimo e vediamo. Abbiamo il mostro pendolo, lei non me la ricordo, la trappola dei memento, terraformaria e ancora la trappola dei sentuti. Ultimo pack, sperai in un'altra secret, ma non ci credo. Allora, abbiamo carta memento, fioriera, dai, dai e niente. E va bene, ragazzi, posso ritenermi soddisfatto. Mettiamola così perché comunque abbiamo trovato il boss monster memento, quindi per me va più che bene alla fine. Sarebbe stato figo beccare il centurio, però sti cazzi. Adesso vedo, io qualcosa ho trovato. Altri due box, come vi ho già detto, li apriremo giovedì sera alle 20 in live, quindi non mancate. E vediamo se effettivamente riesco a montarmelo tutto così, anche da testarlo un po' in real con gli amici, almeno per non proxame tutto, perché è un po' una merda, mettiamola così. Detto questo, ragazzi, ovviamente vi ringrazio per il supporto e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!